Buonasera e bentrovati i nostri amici telespettatori di Rete7. Buona settimana, vediamo insieme le notizie di oggi e di domani. Intanto, sino a domani sono in manutenzione gli semafori di Rondò della Forca, ci saranno i colleghi in centro incrocio. E' cominciata l'iniziativa l'Agenzia delle Entrate in Contra ai Cittadini. I funzionari sono pronti a rispondere a tutte le domande, questa sera dalle 18 alle 20 al Gruppo Bere in corso trappani 91B. Domani invece saranno dalle 17.30 alle 19.30 presso la decima circoscrizione in strada comunale Mirafiori 7. Veniamo alle notizie di domani, martedì 29 maggio. Intanto il controllo della mobilità che da domani partirà sino a sabato in via Chiesa della Salute a Borgaro, Stradella, Bregno, Venaria, Corsi Giulio Cesare, Vercelli e Palermo. Nella sola fascia oraria dalle 8 alle 18 da domani e sino al primo giugno a Rivalta, le linee 43, 89 e Rivalta 2 subiranno deviazioni di percorso. Non ci sono altre notizie, buona serata, buon viaggio, a domani.